Centinaia di migliaia di donne hanno già acquistato questa fantastica novità per sconfiggere l'invecchiamento della pelle. Si chiama Dermawand, la bacchetta magica per la tua pelle. Osservate questa immagine che rappresenta l'inventrice di Dermawand. Christina Boves ha usato l'apparecchio solo su un lato del suo viso. Notate come il sopracciglio appaia più sollevato. In effetti, l'intera area attorno all'occhio sembra più aperta e le borse, le rughe e tutte le linee d'espressione appaiono notevolmente ridotte. I segni intorno alla bocca sono ridotti al minimo, il gonfiore delle guance è notevolmente diminuito e la dimensione dei pori della pelle è del tutto rimpicciolita. Puoi veramente regalarti un lifting facciale senza alcun intervento chirurgico, grazie a Dermawand. Ed ecco un'altra immagine di Christina otto anni dopo. Nessun intervento, ago o quant'altro. E se guardate, lei sembra più giovane oggi a 54 anni di quanto lo fosse a 46. Soltanto con un uso continuo di Dermawand puoi togliere fino a 10 anni all'aspetto della tua pelle, mentre tu impieghi solo 3 minuti per un trattamento garantito. Durante questa dimostrazione potrai assistere a risultati istantanei, proprio davanti ai tuoi occhi. Dermawand è l'ultima creazione nell'ambito della tecnologia portatile di bellezza. Dermawand è stato proprio creato per un uso sicuro, facile e rilassante. In modo molto dolce, stimola la tua pelle con micropulsazioni di corrente ad alta frequenza e basso amperaggio, mentre al tempo stesso satura la pelle con ossigeno puro ringiovanente. Dermatologi professionisti usano esattamente la stessa tecnologia di bellezza d'Arsonwall e ti fanno pagare migliaia di euro. Tu invece non pagherai migliaia di euro per la tua Dermawand. Al contrario, risparmierai migliaia di euro, evitando visite costose in termini di tempo e di denaro con specialisti per la cura della pelle. Inoltre, verificherai come Dermawand sia in grado di riscolpire miracolosamente colli cadenti, donandoti un profilo tonico, rassodato e decisamente più giovanile. Stimolando e ossigenando regolarmente anche la cute dei capelli con Dermawand, riuscirai inoltre a prevenire e bloccare la perdita di capelli. Trattando la parte posteriore delle tue gambe quotidianamente, ridurrai la formazione della cellulite, trasformando cosce spugnose in gambe da showgirl in brevissimo tempo. Vedrai in prima persona quanto sia efficace Dermawand per coloro che soffrono di acne e imperfezioni della pelle. Quindi, resta sintonizzato, perché tutto ciò e ancora di più sta per apparire sul tuo schermo. Nel mio lavoro ho molto a che fare con la pelle, ed è sorprendente la differenza che passa tra i pazienti che possiedono Dermawand o hanno ricevuto questo tipo di trattamento, e coloro invece che non ne fanno uso. È così semplice ottenere risultati professionali a casa tua con Dermawand. E per sapere come fare, ho qui accanto a me la dottoressa e amica Stella Ricis. Grazie, Carey. È davvero facile ottenere grandi risultati con Dermawand. Questa è Julie, e all'età di 50 anni appare proprio in gran forma perché ha usato Dermawand ed ora ci darà una dimostrazione di come ottenere un lifting istantaneo dell'occhio qui, davanti a noi. L'intera area attorno all'occhio apparirà più spaziosa e vivace. È sorprendente. Il sopracciglio si solleva. La parte superiore dell'occhio è completamente distesa. Sembra completamente diversa, non credete? Lo uso un paio di minuti al giorno, al mattino, e altri due minuti alla sera. Ho 50 anni, ma la mia pelle è migliore oggi di quando ne avevo 37. E lo giuro, non ho mai fatto nessun ritocco alla mia faccia. È sorprendente aver visto i risultati sul viso di Hygiene Indiretta. Pensate, se aveste avuto a casa vostra Dermawand avreste ottenuto esattamente gli stessi risultati. Quindi io credo che tutti voi all'ascolto adesso lo vogliate acquistare subito. Stella, spiegaci brevemente come lavora Dermawand. Non appena io appoggio la punta di Dermawand sulla mia pelle, questa trasferisce in un secondo 160.000 cicli di leggere micropulsazioni elettrostatiche ad alta frequenza e basso amperaggio, che massaggiano il tuo volto in modo delicato e rilassante, raggiungendo anche gli strati inferiori della pelle con una istantanea stimolazione che migliora la circolazione e porta ossigeno, sangue e nutrienti vitali allo strato superficiale della pelle. Inoltre, le delicate microcorrenti elettrostatiche ad alta frequenza hanno un effetto termale sulle aree del derma sotto alla superficie che incentiva la produzione di collagene fresco ed elastina, con un effetto riempitivo sulle rughe e i diversi segni di espressione, tonificando e rassodando la tua pelle. Le pulsazioni ad alta frequenza rilasciano anche ossigeno arricchito. L'ossigeno è importante per nutrire ed alimentare in modo completo la superficie della tua pelle. È un detergente naturale che, saturando i pori della pelle, riesce a sconfiggere i batteri che causano l'acne. Immaginatevi! Potrete dire addio ai brufoli e a tutte quelle imbarazzanti escrescenze ed avere una pelle sempre pulita, brillante e sana grazie a Dermawand. Usate la frequenza più bassa per i primi trattamenti e quando vi sentite pronte, alzatela fino ad ottenere i migliori risultati. Usate Dermawand due volte al giorno, quando più vi piace, trasformando questi momenti in una piacevole abitudine. Osservate quest'altra foto. Questa è Bonnie. A soli 40 anni, la forza di gravità ha già danneggiato seriamente il suo aspetto. Ecco qui invece Bonnie dopo soli 60 giorni di trattamento con Dermawand. Le depressioni sul suo mento e parte inferiore della bocca se ne sono quasi completamente andate. I segni dal naso alla bocca sono scomparsi. Le guance gonfie si sono asciugate, dando al volto un aspetto più magro. La forma dell'area intorno all'occhio è cambiata in modo drammatico. Le borse sono sparite. Osservate come la zona superiore di entrambi gli occhi si sia decisamente aperta. Le sopracciglia si sono sollevate. Bonnie ha tolto 10 anni al suo aspetto e lo puoi fare anche tu usando Dermawand. Stella, da dove arriva questa favolosa Dermawand? Se ti rivolgi a dei professionisti vedrai come questi usino una macchina Darsawall ad alta frequenza molto simile a Dermawand. Gli esperti di cosmesi di tutto il mondo la stanno già usando da anni perché funziona davvero. Ecco perché la mia amica Cristina Bovis ha pensato di trasferire la stessa tecnologia delle grandi macchine in un apparecchio che si può trasportare. Dermawand è stato pensato proprio per un uso delicato, semplice e sicuro da realizzare a casa per poter effettuare i trattamenti quando vuoi e senza la spesa di migliaia di euro che si dovrebbero pagare per averli in un centro di bellezza. Per dimostrarvi come Dermawand possa migliorare l'aspetto di ognuna di voi abbiamo commissionato uno studio clinico indipendente di 18 giorni. I partecipanti hanno testimoniato una diminuzione del 39% sulle rughe del viso. La larghezza dei pori si è ridotta del 41% e il gonfiore attorno agli occhi era diminuito di un sorprendente 60%. L'altro giorno una delle ragazze mi ha detto Sally, stai usando un trucco diverso? Non avevo detto niente al lavoro dei miei trattamenti. E io ho risposto no, non sto usando un trucco diverso. E tutti a dirmi, beh non so cosa tu stia facendo ma sicuramente sembri più giovane. E io ho pensato, che bel modo di iniziare la giornata! Usarla mattina e sera mi dà i brividi perché so che potrò vedere subito gli effetti. Sono veramente soddisfatta perché prima avevo la pelle così rubida e adesso invece è come velluto e quei risultati non si limitano certo alla tua faccia. Hai proprio ragione! Ovunque abbiate una pelle poco attraente, opaca, sul collo, torace, parte esterna di braccia o gambe, Dermawand farà miracoli! Guardate cos'è successo quando queste signore hanno usato Dermawand la prima volta su un lato della faccia. Quando ho usato Dermawand la prima volta, ho visto risultati immediati. Ho subito notato un lifting istantaneo attorno all'occhio. Tutta la mia faccia sembrava più distesa. Userò Dermawand quotidianamente, al mattino e sera, perché i risultati saranno immediatamente visibili. Dopo aver usato Dermawand, mio marito ha subito notato una differenza e mi ha detto che avevo un aspetto formidabile. In effetti, da quando uso Dermawand, mi sento meglio con me stessa, sono più positiva, lo raccomando a tutti! Sì, nessun'altra crema, lozione o pomata che sia, può garantirti risultati così facili e veloci come Dermawand. Sai cos'è veramente sorprendente, Stella? Non importa quale sia la tua età o il tuo tipo di pelle, grassa, secca o normale, Dermawand ti toglierà comunque dieci anni di invecchiamento. La gente non solo sente la differenza, la vede. Comprare Dermawand e usarla a casa con un impiego costante può decisamente rallentare il processo di invecchiamento della pelle. Cristina Boves ha usato la bacchetta solo su un lato del suo viso per tre mesi. Notate come il sopracciglio appaia più sollevato. In effetti l'intera area attorno all'occhio sembra più aperta e le borse, le rughe e tutte le linee d'espressione appaiono notevolmente ridotte. I segni intorno alla bocca sono ridotti al minimo. Il gonfiore delle guance è notevolmente diminuito e la dimensione dei pori della pelle del tutto rimpicciolita. Tutti voi potete verificare come il tono della pelle sia notevolmente migliorato sulla parte del volto dove Dermawand è stata applicata. Questi sono i risultati che potete ottenere usando Dermawand due volte al giorno tutti i giorni. Questa foto di Cristina è stata scattata quando aveva 46 anni. Ecco come appare alcuni mesi dopo. Nessun intervento chirurgico, nessuna iniezione, solo Dermawand. Questo è il modo per apparire più giovane a 54 anni che a 46. E anche voi avete sentito quando Giulie diceva che la sua pelle appare più tonica ora che a 50 anni di quando ne aveva 37. Se anche tu a casa tua potessi provare lo stesso tipo di sensazionale risultato sulla tua pelle, se potessi togliere 10 anni al tuo aspetto complessivo, se potessi ridurre in modo estremo linee e rughe dal tuo volto, se potessi ridurre il gonfiore dai tuoi occhi e regalarti un lifting immediato ogni volta che vuoi, se potessi ridonare alla tua pelle il suo aspetto giovanile. Non lo faresti? Beh, adesso puoi con Dermawand. E proprio adesso, durante questa esclusiva offerta televisiva, puoi ordinare Dermawand a un prezzo davvero eccezionale. Così vedrai di persona come riuscirà a cambiarti. Prendi in mano il telefono e ordina subito. La tua pelle appare stanca e affaticata? I tuoi occhi, il viso e il collo cominciano ad evidenziare i primi segni del tempo? Vorresti rivolgerti ad un professionista per un lifting facciale, ma senza spendere troppo tempo e danaro? Adesso puoi farlo con Dermawand, l'ultimo ritrovato nella cura della pelle, che migliora in modo sorprendente la bellezza della tua pelle. Usando lo stesso principio tecnologico che si può trovare nei macchinari professionali, Darsonwell, Dermawand è stato disegnato e realizzato proprio per un uso sicuro e facile a casa tua. La punta di Dermawand stimola e massaggia la pelle attraverso delicate e rilassanti micropulsazioni elettrostatiche, riportando ossigeno e nutrienti alla superficie della pelle e creando un effetto termale sulle aree del derma sotto alla superficie, che incentiva la produzione di collagene fresco ed elastina, con un effetto riempitivo sulle rughe e i diversi segni di espressione, tonificando e rassodando la tua pelle. L'ossigeno arricchito poi la deterge e le ridona una nuova vita. Il tuo aspetto passerà da invecchiato e con macchie a pieno di salute, giovane e splendente. Se soffri di acne poi, ti garantiamo che Dermawand ti donerà molto presto un aspetto pulito e libero da imperfezioni. Usa Dermawand per trattare pelli poco attraenti, la parte posteriore di braccia e gambe per esempio, per rimuovere la cellulite, stimolando e ossigenando. Usala sul cuoio capelluto, per prevenire la perdita e l'assottigliamento dei capelli, sull'area attorno al collo per tonificare e riscolpire. Puoi veramente apparire dieci anni più giovane. Telefonando, riceverai la tua incredibile Dermawand e questa elegante borsa cosmetica inclusa nel prezzo per portare Dermawand con te quando viaggi o per riporlo in modo protetto tra un uso e l'altro. Riceverai inoltre il DVD che ti mostra i segreti usati dagli specialisti della pelle. Così come hai visto, Giulie, in diretta oggi, anche tu, a casa, potrai regalarti un lifting istantaneo ogni volta che lo vorrai. Dermawand è un prodotto certificato usato dai più importanti marchi per la cura del viso che, con un uso quotidiano, può aiutarti a rimuovere borse, pieghe, segni, rughe dall'area delicata intorno agli occhi, ridurre il gonfiore e la porosità della pelle. Anche tu potrai ottenere risultati come quelli di Christina Boffs, ideatrice di Dermawand, che appare più giovane a 54 anni che a 46. Puoi tranquillamente apparire più giovane di 10 anni semplicemente applicando Dermawand a casa tua, quando vuoi, risparmiando al tempo stesso denaro per visite e controlli da specialisti. Ecco un modo per dimostrarti come lavora Dermawand sul tuo aspetto. Fatti una foto, usa Dermawand per 30 giorni e poi scatta un'altra foto. Mettile a confronto, vedrai come l'aspetto appaia subito più giovane e sentirai i complimenti di tutti quelli che ti conoscono. Con Dermawand sembrerai 10 anni più giovane e risparmierai un sacco di soldi.